Ehi là, come va? Già, avete indovinato, sono il solo e unico... Beh, te lo concedo, niente male come entrata in effetto. Ah ah, molto divertente. Vuoi dire alla gente a casa perché siamo qui? Celebriamo le feste con stile. Qualcuno deve proprio fermare quel tipo. A quello puoi pensarci tu. Oh wow, questo è per te? Oh, grazie, è meraviglioso. Non dovevi? Oh, grazie, è meraviglioso.